In auto lungo l'autostrada del sole con cinque panetti di hashish ben nascosti sotto il sedile, ma il viaggio per un giovane aretino è stato interrotto dalla polizia stradale che lo ha arrestato. Erano circa le 15 e 30 di sabato quando una pattuglia della sottosezione di battifolle ha deciso di fermare per un controllo una Opel Car con targa italiana e con una sola persona a bordo, un 36enne. Il conducente della piccola utilitaria prima ha fatto finta di aderire all'invito di fermarsi al casello di Valdichiana, ma poi ha tentato la fuga andando a diritto. È così scattato immediatamente un inseguimento che si è concluso cinque chilometri dopo, quando l'uomo stretto al guardrail è stato costretto a fermarsi. Gli agenti hanno perquisito l'auto e da sotto il sedile di guida sono spuntati fuori cinque panetti, risultanti poi contenere 500 grammi di hashish. La perquisizione si è così spostata anche all'abitazione dell'uomo a Sinalunga. Dai successivi accertamenti è poi risultato che il giovane era stato appena scarcerato per reati inerenti violenza in ambito familiare, stava tornando da Roma dove era andato evidentemente a rifornirsi. È risultato anche senza occupazione, secondo gli inquirenti si sarebbe così sostenuto con l'attività illecita. Il giovane è stato arrestato, attualmente è detenuto nel carcere di Sollicciano a Firenze. L'auto e la droga che avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio almeno 5.000 euro sono stati ovviamente sequestrati.